salve a tutti ragazzi belli e brutti i miei iscritti benvenuti bentornati su GiovaCatispo io sono Giovispo questa è una Neymar Road Brazil numero 4 penso 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 vado a comprare Wellington a 1700 1800 non mi ricordo se li intendo il guardiano cdc vabbè è un buon acquisto penso che sia un buon acquisto poi vado ad acquistare un altro difensore me lo avete consigliato voi Wellington è Felipe Felipe 72 con 72 di velocità e altri buoni caratteristiche di difesa in testa pagato 1100 questa è la prima squadra il primo gol arriva con questo bel polonetto di Michael Husserl al 50 e poche cosa poi arriva anche quest'altro gol Mike Husserl Mike Husserl Mike Husserl cerco il tiro e non invece passi mezzo per la testa di Neymar di testa al novantesimo sigla il 2 a 0 prima partito di questo episodio ho vinta con un netto 2 a 0 diciamo che ho concluso di più fatto più possesso vabbè ciò ci ha permesso di vincere il titolo quindi mi ho da fare un altro acquisto mi mancava il terzino sinistro sono andato a prendere ad e poi mi avete anche consigliato questo Mike Husserl con 93 di velocità 73 pagato 1800 era l'unico 1800 l'ho preso al volo e l'ho inserito così ho completato la squadra argento abbiamo incontrato la seconda partita questa squadra con Llorente Navas più che chi più ne ha più ne mette prima gol arriva con un tiro di Llorente poi David Villa proprio non so come ha fatto di andare così piano vabbè poi David Villa ancora spalla con fabbigno che non riesce a tenerlo si fa il 2 a 0 con questo bello serie di passaggi a filtranti alti passaggi della merda per Neymar curto A veramente pagato di tutto ho fatto una 13 13 tiri nome in porta ma non mi ho parlato di vero di tutto noia curto A scusate che non c'è dove sta terza partita un'altra squadra un'altra bubblè il primo gol arrivo con questa percussione sulla faccia con il stile di Dani Ligno non lo può fare chi è che sta in port art sì poi arriva anche l'altro gol dell'altro esterno con Mekon a volo bezzopo chi uscisse arriva anche il gol con Podolski al non so quando poi arriva anche il 2 a 2 con Fernando Torres due gol di testa questi bug per favore li devono togliermi hanno rotto il cazzo poi arrivo il 3 a 2 con Mike Cousel arriva anche il 4 a 2 con il colpo di testa di Neymar cioè Neymar 60 di testa e fa fare gol di testa vabbè poi arrivo il gol al volo di Borghott finisce così poi tra 3 io chiedo perché l'agliere ha messo questi bug di testa c'è una cosa assurda uno nella realtà non riesce sempre a prenderlo di testa ma invece diciamo 2 su 3 le prende di testa vabbè altra partita il primo gol arriva con una cacata di Fabiano il terzino era rimasto pure immobile vabbè e segna la casetta poi arriva l'altro gol di Lacazette si fa simile a quello di prima poi arriva questo numero di Giorgino che la alza appena appena poi col testo la infila bella bella in rete poi Howard spazza veramente alla cazzo di cane e Neymar ne approfitta per sticlare il 2 a 2 il 74esimo avversario si ritira non so perché stavamo pareggiando se n'è andato vabbè perché comunque avevo fatto anche in questa partita anche un bel po' di tiri in porta e quindi passiamo a quest'altra partita qua lo stiamo utilizzando per Neymar come pallonetto non la fu a Casillas al nono minuto poi Neymar questo bello questo bel bello 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 poi Biabianì sigla il 2 a 1 poi con questa cacata di Casillas Neymar riesce a bussaccarla con questo bel tiro anche se Casillas questo tiro poteva parato vorrei anche questo altro gol sempre con Neymar che insiste in quest'azione Casillas si butta sempre a vuoto poi rimanga questo altro gol Casillas di nuovo si tuffa la proprio malissimo e 5 a 1 sessantottesimo si blocca tutto e allora c'è il quit del mio avversario quindi il partito altro partita vinto Fabiano ha preso 9 mai preso 9 Fabiano vabbè il fortiere che ho io brasiliano c'è ancora volevo dirvi che per il prossimo episodio dobbiamo arrivare a 50 mi piace e vi chiedo di dirmi giocatori brasiliani argenti argento quelli che volete basta che non superino il budget che non ho nella mia spot ebbene ragazzi se questo video vi è piaciuto ha stato un bel pollice in su arrivo a 50 mi piace per il prossimo episodio video commentate con i nomi giocatori argenti iscrivetevi alla canzone se siete iscritti qui a Giovispo vi saluto e ringrazio ci vediamo domani con un nuovo video ciao bello a tutti prossimo video rimanete soddisfatto sulla pagina facebook per il pink slips che ci sarà per forza ciao